Alberto Alpozzi, per chi non lo conoscesse, è un fotoreporter freelance, è un giornalista specializzato in aree di crisi, ha documentato e raccontato tra le altre le guerre in Afghanistan, in Libano, in Kosovo e la missione antipirateria in Somalia, si è occupato anche della vicenda di Ustica, di uno dei tanti misteri italiani che è quello di Ustica e svolge soprattutto ricerca storica sul colonialismo italiano e noi lo abbiamo interpellato stasera proprio in questa sua veste di esperto di colonialismo italiano che da ormai alcuni anni, attraverso anche il suo sito e i suoi libri, l'ultimo dei quali è questo che vedete inquadrato davanti a me, bugie coloniali, lui svolge, dicevo, un lavoro di ricerca e potremmo dire anche di revisione storica, nel senso che non nega le ombre del colonialismo ma cerca anche di evidenziare le luci, comunque sia contestualizza quella vicenda nel periodo storico in cui si è svolta, non la strumentalizza, diciamo così, per attaccare politicamente un regime che ha avuto una sua storicità, è iniziato e determinato in un certo periodo storico della storia d'Italia e soprattutto, specialmente in questo suo ultimo libro, bugie coloniali, fa un lavoro di, potremmo dire, fact checking per utilizzare una terminologia che va di modo ultimamente, cioè va a cercare di verificare se le credenze e le maggiori, diciamo così, anche pregiudizi che ci sono sul colonialismo italiano corrispondono alla verità oppure se si tratta di quelle che lui definisce fake news, quindi un lavoro che al di là di come la si pensi, secondo noi è molto interessante ed è un lavoro che aiuta, contribuisce a fare chiarezza su un periodo storico comunque molto interessante e molto importante. Quindi Alberto, fatto questo piccolo inquadramento sul lavoro che tu fai, io inizierei subito a porti la prima domanda che parte proprio dal tuo libro, da questo libro, bugie coloniali, e quello che mi ha incuriosito subito nella lettura, le primissime pagine, la prima pagina addirittura, che è intitolato Cos'è una colonia dove tu fai un'operazione originale, nel senso che... Molto semplice, sì. Sì, semplice e originale del tempo stesso perché inizi a parlare del colonialismo italiano prendendo le definizioni che troviamo nella principale enciclopedia italiana, che è la Treccani, vai a verificare, a scrivere, poi a portare nel libro come la Treccani definisce il colonialismo e lo paragoni con ciò che fanno diciamo dizionari e enciclopedie di pari livello inglesi e francesi, in particolare per gli inglesi prendi il Collins e per i francesi la Russe e da queste definizioni diverse fra il dizionario e l'enciclopedia italiana e quelle francesi e inglesi scaturisce proprio, almeno tu così sostieni, una visione diversa del colonialismo fra questi tre paesi, è così? Sì, ma è appunto quello che dico anche nel libro. La cosa principale che si evince dall'analisi dei dizionari, quindi la rappresentazione anche della storia e della cultura di una nazione, si scopre come leggendola Treccani vi siano degli elementi che non compaiono nella descrizione del termine colonialismo o colonia negli altri dizionari, appunto come ha detto tu Collins e la Larousse, cioè non viene fuori il discorso dell'abitare una colonia, stabilirvisi e lavorare, coltivarla e farla progredire nel tempo. Cioè questa definizione, questa serie di parole che proprio dice la Treccani, se volete ve lo leggo, dice che presso gli antichi gruppo di cittadini di uno Stato che per decreto pubblico di propria spontanea volontà si stabilivano in un paese lontano per abitarlo, coltivarlo, incivilirlo, acquisirlo agli ordinamenti e ai costumi della madrepatria. Ecco, questa è una definizione totalmente assente, non esiste nel Collins e non esiste nella Larousse. Ecco, questo è già fondamentale secondo me per comprendere quello che era la forma mentis, la visione del mondo degli italiani che avevano già a fine ottocento del colonialismo, anche perché bisogna ricordare che il colonialismo italiano è iniziato a metà ottocento, quando il colonialismo per le altre nazioni europee, per esempio appunto la Francia, l'Inghilterra, la Spagna, il Portogallo piuttosto che il Belgio, era già iniziato nel Settecento, ma in un secolo questo era anche mutato poi da quello che era semplicemente l'acquisizione o l'invasione di un territorio per prenderne le risorse, con anche, se vogliamo, e questo è oggettivo, come dato, la sottomissione degli indigeni. Ecco, quando l'Italia partecipò a quella che venne definita poi la corsa all'Africa, l'idea anche poi del colonialismo, vogliamo anche le nuove filosofie, per esempio il positivismo, che in quegli anni erano presenti ed erano molto in voga in Europa, il promulgato da August Comte, quindi l'incivilimento del mondo intero, l'idea che il progresso avrebbe dovuto portare la civiltà in tutto il mondo, compreso il continente nero, che quindi all'epoca era l'Africa, un continente totalmente sconosciuto e non, appunto, colonizzato dai bianchi. Ecco, questo è il momento nel quale si inserisce l'Italia nella corsa al colonialismo, quindi non vi era più la semplice e sola idea dello sfruttamento delle risorse del territorio che si andava a conquistare o del quale si andava a prendere possesso, ma vi era l'idea anche, come dice la nostra Treccani, ed era poi un concetto romano, di romana memoria, di far stabilire i propri cittadini in quei nuovi territori per coltivarli e lavorarli. Infatti, anche una grande differenza tra le colonie italiane e le colonie degli altri stati europei è che gli italiani portarono le famiglie, le donne, i bambini, intere generazioni di italiani nacquero nelle colonie d'Africa, che fosse poi l'Africa orientale, quindi l'Eritrea prima, la Somalia dopo e infine l'Echiopia, piuttosto che la Libia, che invece si trovava qua sulle sponde del Mediterraneo. Possiamo per esempio ricordare l'emigrazione dei 20.000, di cui fu fautore Italo Balbo, 20.000 persone italiane vennero portati in Libia come migrati per andare ad acquisire dei territori da coltivare. Ecco, questa è una cosa importante. Al di là di quello che storicamente già conosciamo e sappiamo del colonialismo, che sono le guerre, quelli che molti definiscono soprusi, piuttosto che massacri, non ci fu solo quello nella storia coloniale italiana, ci furono anche molte persone, molte famiglie, molti civili che andarono là per lavorare e stabilirsi. Ecco, questa è una cosa importante ed è quello da cui parto con il primo capitolo. Ho fatto un'operazione molto semplice, come è originale, ti ringrazio della definizione che hai dato prima, proprio il concetto di aprire un dizionario, cioè la storia di una nazione parla anche attraverso e soprattutto le proprie parole, i propri termini, la quantità di sinonimi anche che ogni singola nazione ha per definire determinati eventi, determinati fatti. Questo cambia molto la visione delle cose. Ecco, questo è quello che ho iniziato a fare con il primo capitolo. Bene, tra l'altro, se mi permetti Alberto, faccio vedere anche un altro libro, che è questo qua, che tu sicuramente conosci, Il lavoro italiano nell'impero, di Davide Fossa. Esatto, nel corso di questa nostra chiacchierata i nostri videoascoltatori potranno vedere anche alcune di queste immagini tratte dal libro. E tornando invece al tuo lavoro, Alberto, tu accennavi appunto adesso nel terminare la tua prima risposta che 20.000 italiani andarono a lavorare appunto in queste colonie. Ecco, tu un'altra operazione che compi di comparazione, chiamiamola così nel tuo libro, è fra l'immigrazione di quel genere, quindi la emigrazione, anzi, degli italiani nelle colonie, raffrontata ai fenomeni di immigrazione che viviamo ai nostri tempi, in particolare in Italia da ormai parecchi anni. Ci vuoi dire quali sono secondo te queste differenze? Io per creare questo capitolo dedicato all'immigrazione italiana nelle colonie mi sono lasciato ispirare al luogo comune che spesso sento e che spesso leggo sui social network piuttosto che sui giornali, quando dicono ma anche noi abbiamo emigrato, anche noi fumo emigranti, quasi a fornire un alibi o giustificare quella che attualmente è un'immigrazione clandestina in senso contrario, cioè nel senso che arriva dall'Africa verso l'Italia. Sì, è vero, anche gli italiani furono emigranti, emigrarono soprattutto e primariamente in America, in America Latina e successivamente con le colonie, volute anche per evitare che braccia e cervelli andassero a lavorare in territori, in nazioni di altri, le colonie vennero utilizzate come territorio nazionale perché gli italiani andassero a lavorare di fatto a casa propria, non a casa ad altri, non ad apportare ricchezza ad altre nazioni, ma lavorassero se non più sul territorio del Regno d'Italia, comunque su nuovi territori acquisiti dal Regno d'Italia. Ecco, però c'è una differenza sostanziale. Al momento l'immigrazione che vi è, quando vengono usate queste frasi, ma anche noi eravamo emigranti, è un'immigrazione clandestina. Gli emigranti italiani dell'epoca non erano dei poveri che partivano e lasciavano l'Italia senza denaro, ma dovevano avere del denaro da poter investire nelle colonie. Non salivano su scassate bagnarole del mare in balia di criminali che poi magari li buttavano a mollo pochi chilometri dalla riva, no, vi erano dei piroscafi gestiti dall'ente dell'immigrazione italiana, erano controllati i biglietti, erano calmerati i costi dei biglietti, bisognava avere i documenti in regola per essere accettati a bordo e acquistare i biglietti, vi erano controlli sulle eventuali malattie o anche la prestanza fisica delle singole persone che venivano inviate nelle colonie, perché l'ispettorato dell'immigrazione comunque poi viaggiava anche a bordo di questi piroscafi, sia che andassero verso l'America Latina, sia che andassero verso le colonie italiane, quindi la Libia la più vicina, piuttosto che l'Eritrea o la Somalia le più distanti attraverso il Mar Rosso, ma soprattutto bisognava avere un lavoro e delle conoscenze tecniche affinché le persone che arrivavano sarebbero arrivate in questi territori non sarebbero diventati dei disoccupati, quindi molti dovevano avere magari anche già dei contratti prima di partire, chi questi non aveva ma aveva dei denari da poter investire in quelle che potrebbero essere le concessioni agricole che venivano stabilite dai vari governi in Eritrea, in Libia e di nuovo in Somalia, doveva però appunto come ho detto avere del denaro da investire, ecco quindi non si trattava di avventurieri che si lanciavano in avventure dall'esito incerto, no, assolutamente era vietato emigrare nelle colonie senza avere del denaro, era vietato emigrare illegalmente nelle colonie, era vietato emigrare senza documenti e senza avere i documenti timbrati dalla Prefettura e dall'Ispettorato dell'Immigrazione, ecco questa è una cosa anche fondamentale da conoscere per quanto riguarda l'immigrazione italiana. Io approfitto un attimo anche per salutare, dico gli utenti del canale, i nostri videoascoltatori, che Paolo Alberto Delbianco, che poi è il fondatore del canale, in questo momento sta facendo un lavoro oscuro ma è qui di fianco a me, è in regia e quindi si sta assicurando che tutto avvenga nel migliore dei modi dal punto di vista tecnico, ma comunque è qui che sta collaborando fattivamente. Tornando a noi Alberto, volevo dirti questo, che uno dei temi ovviamente più scottanti di quel periodo storico, che ovviamente non riguarda solo l'Italia ma adesso ci concentriamo su essa, è quella della credenza diffusa, e tu ci dirai se e quanto fondata, di una diffusa pratica di sfruttamento e persino riduzione in stato di schiavitù degli abitanti originari dei paesi che si andavano ad occupare. Questo ovviamente è specialmente per la sensibilità di oggi un tema molto sentito e molto pesante. Su questo tu cosa ci puoi dire? Come si svolgevano le cose su questi temi? Allora, diciamo che in Africa, prima del colonialismo e durante anche il colonialismo, erano due le attività più redditizie, che erano impiantate dagli arabi e dai locali, il traffico d'armi e il traffico di uomini, erano due le attività, non che oggi sia molto diverso ai noi in molte regioni dell'Africa. Quando l'Italia arrivò nelle colonie, la prima cosa che fece, e questo siamo già fino a 800 in Somalia, abolì quella che era la schiavitù. Noi conosciamo l'editto più famoso che è quello di Adwa del 14 ottobre 1935, l'editto del bando della soppressione della schiavitù da parte di De Bono durante la guerra d'Etiopia, è il più famoso, ma non fu l'unico, anche perché poi De Bono a fine anno-dicembre venne sostituito come comandante del contingente armato in Etiopia da Badoglio, il quale poi successivamente, l'anno dopo, anche lui è miso un altro bando di soppressione della schiavitù sempre in Etiopia. L'Italia aveva abolito di fatto la schiavitù in tutte le colonie italiane, perché quando arrivò per esempio in Somalia la compagnia Filonardi a fino a 800, trovarono uomini in catene, trovarono uomini che venivano sfruttati e disumanizzati. Quindi scusami Alberto, venivano quindi schiavizzati dagli stessi… Dagli stessi clan, dai clan più potenti. Potenti rispetto a quelli più potenti. Esatto, avveniva anche spesso che dall'Etiopia, Rasa, Bistini sconfinassero in quelli che erano territori dei clan somali per levare tributi, cioè quindi farsi pagare una sorta di protezione e in più per prelevare uomini e donne da schiavizzare. Questo è anche un altro fatto che molto poche volte viene rilevato dalla storia sul discorso del confine, tuttora inesistente tra l'altro fra Somalia ed Etiopia, e tutti i vari casi di sconfinamento da parte dei Rasa etiopi in territori all'epoca poi definiti italiani, Italo-Somali possiamo dire. L'Italia abolì la schiavitù, questo è un fatto. Tra l'altro non sono io che per primo lo dice, ma lo dice il dottor Mohamed dei Satrungi in un suo libro pubblicato nel 2015 a Londra dalla Low Press che è Somalia Untold. nel libro Somalia Untold, il Mohamed dei Satrungi, parla anche di una serie di lettere intercorse fra un sultano locale e l'allora governatore della Somalia, siamo nel 1924, adesso vado a memoria la data, se non è il 24 è il 23, poco cambia, che era Cesare Maria De Vecchi di lamentarsi del fatto che i suoi schiavi erano stati liberati dall'Italia e lui di questo non era contento. Quindi chiedeva agli italiani e di conseguenza al residente di Merca e successivamente al governatore della Somalia che era De Vecchi di restituire i propri schiavi perché se no lui avrebbe mosso guerra contro gli italiani per questo fatto che gli dava fastidio, perché lui diceva che la nostra religione ci permette ed è giusto che sia così. Inutile dire che il sultano finì la sua vita in prigione a Mogadiscio e gli schiavi da liberi continuarono a rimanere liberi. Inoltre molte volte si sente e si legge in maniera falsa il fatto che gli italiani si sostituirono agli schiavisti locali per schiavizzare a loro volta la manodopera locale. Ecco questo è un falso, è un falso storico, è un falso soprattutto odioso perché vi sono delle prove, delle prove certe, delle prove chiare, dichiarate in documenti e fonti, citate anche dai medesimi autori che sostengono che l'Italia schiavizzò gli indigeni, proprio perché vi erano dei contratti di lavoro che venivano stabiliti fra il governo, i concessionari, i capi clan e di conseguenza le famiglie di coloni indigene che lavoravano per gli italiani nelle concessioni. Questo avveniva per esempio in Somalia nelle concessioni agricole di Genale, erano governative perché aveva investito molto il governo italiano e poi erano concessionari privati italiani che come vi avevo detto prima dovevano avere dei denari da investire perché arrivavano le terre erano totalmente incolte, andavano comunque bonificate, bisognava costruirsi la baracca per vivere, dormire, mangiare, avere gli attrezzi. In parte il governo poi finanziò anche gli attrezzi per poter contribuire alla realizzazione di quelle che erano le concessioni e gli indigeni venivano assunti a giornata oppure con contratto stagionale e venivano pagati tutti i venerdì. La stessa cosa avveniva sempre in Somalia, siamo sempre negli anni 20, anni 30, al villaggio Duca degli Abruzzi, realizzato, istituito, fondato e gestito fino alla sua morte dall'omonimo Luigi di Savoia, Duca degli Abruzzi, morì in Somalia, si fece soppellire in Somalia ed è tuttora il suo corpo in Somalia. Per molti anni i somali, fino a pochi anni fa, sono sempre andati in pellegrinaggio a rendere omaggio al Duca degli Abruzzi sulla sua tomba. Poi la guerra civile prima e il terrorismo islamici ultimamente di Al-Shabaab ha creato non pochi problemi anche nella zona. Stavo dicendo però una cosa principale e importante che il Duca degli Abruzzi istituì per la prima volta una novità assoluta per le colonie, il contratto di compartecipazione. Questo significa che le famiglie coloniche in parte erano pagate, in parte invece avevano a disposizione i prodotti della terra coltivata e in parte avevano un appezzamento di terreno che potevano coltivare a loro piacimento e poi di conseguenza utilizzarlo come sostentamento eppure andarlo a rivendere. Inoltre sia nelle concessioni agricole di Genale sia per esempio, come ho detto, al villaggio Duca degli Abruzzi, i concessionari erano tenuti a realizzare anche le baracche o i tukul, la casa, l'alloggiamento per gli indigeni. Se l'indigeno invece preferiva con la famiglia vivere all'interno del suo villaggio tutte le sere e tornare indietro, la differenza del costo che mi pare fosse tipo di 10 lire annome, veniva corrisposta al colono indigeno perché non utilizzava la casa fornita o dal concessionario o dal governo. Ecco, quindi chi dice che gli italiani schiavizzarono gli indigeni nelle concessioni agricole o comunque per i lavori è un falso, dice il falso, perché questo non avvenne, ci sono i documenti e ci sono le prove. Anzi, proprio gli stessi che ho dedicato un capitolo, come hai detto tu prima, al discorso del fact-checking, sono andato a controllare le fonti utilizzate da chi sosteneva invece l'esatto contrario. Diceva che i somali erano sottoposti al lavoro coatto, quando nello stesso capitolo viene citato un autore che si chiamava Ernesto Quadrone, aveva scritto un libro, Donne, Pioniere e Belve, nel quale si scrive chiaramente che i somali il venerdì erano pagati. Ecco, quindi se i somali sono pagati il venerdì non può essere che erano schiavizzati, giusto? Giusto. Questo l'ho semplificata molto, nel libro ci sono tutti i riferimenti, i virgolettati, le citazioni. Confermo che è esattamente così, nel senso che tu documenti tutto quello che sostieni in questo lavoro. Ci sono le note e tutto quanto. Ecco, addirittura potremmo dire che i diritti di questi lavoratori delle colonie potevano spingersi sino al punto di scioperare? Gli indigeni potevano scioperare? Ecco, questa è una bella domanda ed è anche interessante la risposta, perché questo l'ho casualmente scoperto, grazie ai documenti che mi sono stati dati lo scorso anno da Raffaele Laurenzi di Milano. Il padre di Raffaele, Aurelio, era residente di Alula, la località più a nord della Somalia, già facciante sul Golfo di Aden, tra l'altro nei pressi di Capoguarda Fui, dove si trova il faro, quello noto come faro di Mussolini, ma che invece era dedicato a Francesco Crispi, quello a forma di fascio littorio, per intenderci la zona. Il residente si vede recapitare una lettera da un impresario di un'azienda mineraria, la Comina, che si trovava nei pressi delle montagne di Alula, il quale lamentava il fatto che non riusciva più a far lavorare gli indigeni, perché ritenevano troppo gravoso, troppo faticoso il lavoro. E la stessa cosa era capitata ai cammelieri e ai portatori d'acqua, che non avevano più voglia, detta dell'impresario, di portare l'acqua e far muovere i cammelli. Il commissario Laurenzi si informa, prende le sue informazioni e scopre tutta una serie di cose. Scopre intanto che non sempre l'impresario trattava bene i somali e già per questo venne ripreso. Quindi già questo è importante da notare come il governo e il rappresentante di un governo non lasci passare che un privato possa abusare di alcune persone. Inoltre rileva il fatto che avevano smesso di lavorare perché secondo loro la paga non era sufficiente. Ecco, una nazione che schiavizza un popolo, secondo voi può avere un impresario, può avere un rappresentante del governo dall'altra? Uno che si lamenta e l'altro che prende informazioni? Se sono schiavisti tutto questo non sarebbe accaduto, magari bastavano tre frustrate o quattro fucilate e si risolveva il problema e le persone tornavano al lavoro. Invece questo non avvenne perché l'impresa venne fermata per alcuni giorni, dovette dare un aumento, lo scrive chiaramente in una lettera che io pubblico per intero, pubblico tre lettere di questo scambio che vi fu nell'arco, mi pare adesso vado a memoria, di un mese per far ritornare a lavorare i somali. Aveva già dato un aumento l'impresario ai somali per farli lavorare e successivamente il Laurenzi andò a visionare la tipologia di lavoro per capire la gravosità del lavoro che non voleva essere più svolto sia dai lavoratori all'interno della miniera sia dai camminieri e dai portatori d'acqua e stabilì delle tabelle secondo le quale dovevano essere pagati per esempio i camminieri e i portatori d'acqua a secondo di quanti chilometri facevano al giorno, erano delle tabelle implementari in base a quante ore, quanti chilometri, quanti giorni di seguito o di stop avevano e cambiavano i costi orari giornalieri da pagare e questo venne risolto. Ecco, questo è importante di nuovo, chi prima ha affrontato questo discorso, prima di lanciare accuse, di scrivere accuse, di far passare un messaggio sul nostro passato, sulla nostra identità di nazione e di esseri umani, civili e cosiddetti civilizzati che sono andati là per portare la civiltà, perché ha accusato i suoi stessi connazionali, nonché possiamo dire nonni, sì possiamo dire i nostri nonni di essere degli schiavisti quando vi sono delle prove, delle evidenze che dicono l'esatto contrario. Poi, che singolarmente qualche persona si sia preso delle libertà fuori dalla legalità, questo credo sia ai noi un fattore comune alla razza umana, ma la cosa importante è sapere che siano una netta minoranza e che il governo, in quel caso il governo italiano, fosse presente per limitare e punire chi commetteva dei reati. Questo è importante. Siamo d'accordo, una cosa che vorrei chiederti è questa, fino a questo punto abbiamo fatto un esame, diciamo così, di ridimensionamento, addirittura di smontaggio di alcune accuse rivolte al colonialismo italiano che sulla base dei tuoi studi sono da confutare. Ecco, però sta di fatto che comunque le azioni coloniali, non solo quelle italiane, ma anche quelle europee in generale di quei decenni, furono comunque operazioni violente, furono operazioni di invasione. Ecco, questo lo possiamo dire o su questo, come ho notato nel tuo libro, anche su questo ci sono delle precisazioni da fare. Anche su questo ci sono delle precisazioni da fare, allora innanzitutto bisogna anche collocarsi in quello che è l'ambiente dello studio storico e del suo sottinsieme che è lo studio del colonialismo. Spesso, troppo spesso e anche volentieri vi è una sorta di anacronismo e l'anacronismo ci porta a giudicare degli eventi di ormai 100-120 anni fa con i nostri occhi e secondo la nostra morale. E questo è sbagliato, perché il modo di condurre la politica internazionale o chiamiamola estera all'epoca era diverso dal modo di condurlo oggi. Il modo di condurre una guerra o quello che potevano essere trattati diplomatici era diverso dal modo attuale. Poi entro nel dettaglio. Ma soprattutto quello che viene sempre definito invasione e conquista, sì in parte, ma possiamo anche dire no. Per esempio l'Eritrea venne acquisita con un contratto, venne comprata da due sultani locali, dalla compagnia Rubattino, che successivamente poi la cedette allo Stato italiano. Quindi per esempio la penetrazione italiana in Eritrea avvenne tramite un contratto. La stessa cosa avvenne in Somalia e iniziò nel 1889 e poi nel 1892 vennero stabiliti due contratti di affitto con i sultani del nord della Somalia, della Migiurtinia. Siamo sempre nella località più o meno di cui parlavo prima di Laurenzi, a Lula, dove si trova il faro. In quella zona i sultani locali percepivano dall'Italia un affitto con tanto di buona uscita annuale per poter issare sulla Garesa, che era praticamente la fortezza, il castello e la residenza sultanale, il tricolore. Tricolore che da un lato proteggeva anche il sultano da eventuali ingerenze di altri paesi europei. Questo è anche un'altra cosa importante da notare. La stessa cosa per gli scali del Benadir. Il Benadir è la regione più a sud, oggi afferente alla zona di Mogadiscio, che era di proprietà del sultano di Zanzibar. Ecco, questa è un'altra cosa anche da dire. La Somalia non era, tra virgolette, dei somali conosciuti oggi. Era innanzitutto frammentato in una serie di sultani, ognuno che faceva capo a se stesso e in continua lotta e competizione tra loro. Inoltre, la zona del sud era di proprietà del sultano di Zanzibar. Altre zone erano state in mano ai persiani, agli omaniti. Cioè, erano passati un po' tutti per questioni di commercio, ma è quello che è anche alla base, se vogliamo, il discorso coloniale. Il colonialismo è commercio, è denaro, è profitto. Poi dipende, ma come anche oggi qualunque tipo di commercio e investimento che viene fatto, con quale morale o idea di profitto viene portato a termine. Ecco, quindi anche la Somalia venne inizialmente affittata, nonché poi acquistata in parte. Poi sì, vi furono delle zone in cui una serie di battaglie o di espansione coloniale vi fu indubbiamente. Invece, torno sul dettaglio di cui parlavo prima, sul discorso della morale, dell'anacronismo, sul modo anche di condurre le guerre. Vi furono delle stragi? Sì. Vi furono delle battaglie? Sì. Vi furono dei morti? Sì, da ambo le parti. Molte volte si accusa il colonialismo o i colonialisti, gli italiani, in questo caso i fascisti o in molti casi i fascisti, di aver condotto delle battaglie sanguinarie perché tanto erano in Africa, perché tanto erano neri, perché tanto lì ci si poteva permettere quello che si voleva. Innanzitutto bisogna considerare il modo che si aveva di condurre, come ho detto prima, le guerre. Una volta gli stati, i militari, erano molto più spietati di quello che siamo oggi. Ma soprattutto quando sento dire, ah, sono stati uccisi solamente perché erano indigeni, perché erano neri. Io ricordo già solo l'esempio di Bava Beccaris a Milano. Bava Beccaris col cannone ad alzo zero non sparò sui neri di Milano, sparò sugli italiani. Rievocato Bava Beccaris proprio in questi giorni, come tu saprai, invocato da alcuni politici opinionisti. Sempre a sproposito e strumentalizzando. Però per dire, no? Ecco, cioè, quindi non è che in Africa i colonialisti italiani si comportarono in maniera diversa di come si comportavano in Italia. Si comportavano come era modo di comportarsi secondo la visione del mondo e l'esercizio del potere delle armi da parte di un governo dell'epoca. Quest'anno ricorre per esempio anche l'annuale, mi pare il centenario, no, il centocinquantenario deve essere, della costruzione del traforo del Freius qua in Piemonte. Per le condizioni di lavoro gli operai scioperarono, gli spararono, erano italiani, gli spararono. Ecco, non erano africani. Quelli che hanno scioperato, di cui abbiamo parlato prima, non sono stati presi a fucilate però dagli italiani, anzi il residente se ne è interessato, come ho detto. Ecco, quindi, parlare anche di stragi, ci sono state? Sì. Furono degli errori ai nostri occhi? Sì. Sono state rappresaglie? Sì. Durante la seconda guerra mondiale, quindi anni dopo, dai paesi liberatori, dagli alleati, vengono condotte delle rappresaglie ben più cruente, ben più sanguinarie, garantite dai codici di guerra, garantite dalle convenzioni di Ginevra sono le rappresaglie. Cioè, ecco, quindi, bisogna anche sempre guardare le cose con gli occhi, con le lenti corrette, non con la nostra morale. Oggi praticamente non si conducono, gli paesi occidentali non conducono più guerre. Avete fatto caso che l'ultima volta che un paese occidentale ha mandato i propri fanti sul territorio è stato l'Afghanistan? La Libia non hanno mandato nessuno, in Siria non hanno mandato nessuno, in Yemen fanno finta che non stia capitando niente. È cambiato in pochi anni, negli ultimi dieci anni, non venti, negli ultimi dieci, anche la concezione da parte dell'opinione pubblica, nazionale e internazionale, la capacità di sopportare la morte di un proprio soldato in un conflitto. Questo all'epoca non avveniva. Quindi anche questo è importante da rilevare. Poi la forza di uno Stato si misura anche nella sua capacità di farsi rispettare. Se questo non avviene, è ovvio che un morto domani diventano due, diventano dieci e poi magari devi levare le gambe, perché alla fine se ti fai mettere i piedi in testa da chiunque, non hai nessun potere. E questo era il concetto dell'epoca. Le leggi della geopolitica, degli imperi che con modalità e forme diverse, come accennavi tu adesso, ricalibrate secondo la sensibilità delle opinioni pubbliche di questo periodo, comunque avvengono gli imperi che si muovono. Adesso ormai ne abbiamo vero uno solo, che è dell'impero americano, non fa tanti complimenti, sebbene utilizzi magari metodologie almeno apparenti diverse. Detto questo però Alberto ti vorrei dire che credo che ci sia almeno una cosa sulla quale possiamo convenire che sia avvenuta sia inaccettabile con gli occhi di oggi, ma anche con gli occhi di allora. Mi riferisco all'uso dei gas sostanzialmente e ti vorrei fare due domande su questo aspetto dei gas. La prima è questa, da quali documenti noi possiamo trarre la certezza che gli italiani li utilizzarono? Le mie conoscenze si riferiscono soltanto ad una testimonianza di Graziani, non ho altri riscontri documentali o comunque di prove storiche, quindi ti vorrei chiedere su questo e l'altra cosa che ti vorrei chiedere è se anche tu convieni con noi che comunque l'utilizzo dei gas sulle popolazioni sia da condannare anche in quel periodo storico, se avvenute. Sì 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 sì, allora innanzitutto il discorso dei gas per esempio è uno degli argomenti che non è contenuto nel mio libro, perché? Perché il titolo è bugie coloniali, fosse stata una bugia l'impiego e l'utilizzo quindi nel conflitto italo-etiopico l'avrei scritto, ne avrei parlato, ma di fatto vennero utilizzati. Ma la cosa da rilevare importante del discorso dell'utilizzo dei gas, che non è uno scoop degli anni 90, non furono così nascosti, celati e negati come si vuole far credere. L'utilizzo dei gas era noto già dall'epoca, vennero già pubblicati all'epoca dei testi, per esempio quello che hai citato tu Graziani, già nell'aprile 1937, quindi meno di un anno dalla presa di Addis Abeba, Graziani aveva realizzato quattro volumi che erano la guerra italo-etiopica, fronte sud, perché Graziani era comandante delle forze armate che partirono dalla Somalia per l'invasione dell'Etiopia, quindi il fronte sud, nel quale riporta tutti i suoi telegrammi con lo Stato Maggiore e con l'Aeronautica. In uno in più di questi telegrammi, Graziani, siamo aprile 1937, parla esplicitamente dell'utilizzo delle bombe a gas, con i gas. Inoltre si possono andare a prendere anche altre pubblicazioni dell'epoca, per esempio quella di un inglese Barnes, che mi pare sia del 1938, il titolo dell'opera è Io amo l'Italia, vi è un capitolo chiaro, anche nel titolo, l'utilizzo dei gas, in cui parla, cita, scrive che gli italiani impiegarono e utilizzarono i gas. Poi la letteratura è varia sull'argomento prima degli anni 90, per esempio negli anni 60, mi pare nel 66, la Domenica del Corriere fece una serie di speciali titolati Faccetta Nera su tutto quello che era stata la guerra d'Etiopia. 66, sì, probabilmente era per i 30 anni della commemorazione della presa di Addis Abeba, 36, 66, per i 30 anni, c'è un capitolo intero dedicato all'utilizzo dei gas, cioè crimini e gas, o massacri e gas era il titolo, quindi non erano un segreto, semplicemente, evidentemente non se ne voleva parlare, non se ne voleva parlare perché lo si riteneva, come va ritenuto effettivamente, un errore, una cosa che si poteva evitare, anche perché i gas erano vietati. Mi pare furono vietati nel 1924, vennero messi al bando. Più che un errore lo potremmo definire un crimine. Sì, se non rispetti le leggi sei un criminale. Ma chi li ha usati questi gas? Badoglio. Prima ancora dell'autorizzazione del Duce. Viene spesso pubblicato un telegramma del Duce in cui invita Badoglio a utilizzare i gas qualora lo ritenga necessario, nella misura necessaria per difendere le proprie truppe. Badoglio li aveva già utilizzati. Ringrazia del telegramma, ma lui li aveva già utilizzati giorni prima. Badoglio. E l'altro è Graziani. Quindi anche lì si parla sempre per assoluti. Bisogna anche, secondo me, dare le responsabilità ai singoli, non a un'intera nazione o a un intero periodo. Furono Graziani e Badoglio ad utilizzare Vegas. La colpa è loro, non di un'intera nazione, non di un tiero popolo, non di tutti i coloni o colonialisti italiani dell'epoca. Fu un conflitto, fu un'aggressione, va bene, fu un'aggressione, ma come dicevo prima, fu un'aggressione dovuta o gratuita? Ma anche lì vogliamo entrare nel merito? I libri di storia di che cosa parlano? Di guerre. Esiste una guerra non di aggressione nella storia dell'essere umano? Mi pare abbastanza semplice la risposta. Quindi vorrei anche lì capire qual è la discriminante di dire è stata una guerra di aggressione. Qualunque guerra è una guerra di aggressione, ma di nuovo, all'epoca era diversa la concezione delle guerre. Adesso siamo noi nelle Nazioni Unite, l'Europa. Prima della seconda guerra mondiale ci si faceva guerra sui confini, con l'Austria prima, con la Francia dopo, con la Germania. Adesso è impensabile che in Europa vi possa essere una guerra combattuta con le armi. Sottolino guerra combattuta con le armi perché la combattiamo con le banche adesso, ma è un altro paio di maniche. No? E non solo. Ecco, le cose sono cambiate. No? Ecco, l'errore ci fu, non così grande come una certa letteratura vuole far apparire, perché anche i numeri dell'impiego di queste armi vietate viene aumentato da pubblicazione in pubblicazione, il numero dei morti viene aumentato di pubblicazione in pubblicazione, viene anche detto che vennero utilizzati sui civili, sui villaggi, cosa non vero perché sono armi che vennero utilizzate raramente, meno di quanto si vuole far credere, quasi sempre solamente per scopi difensivi e dal punto di vista tattico, strategico e ai fini del conflitto non fecero la differenza. Ricordiamo però per esempio anche che gli abissini utilizzavano a loro volta le armi vietate, le note pallottole dum-dum, quelle esplosive? Questo bisogna notarlo nella guerra. I prigionieri che venivano presi dagli abissini venivano di norma evirati e decapitati? Non mi risulta che una tale barbaria venne praticata dai legionari italiani in Etiopia. Non sto dividendo le colpe, sto solamente sottolineando dei fatti che alle volte qualcuno dimentica di dire. La guerra è una brutta cosa e non credo ne esca mai nessuno pulito, né chi vince né chi perde. Ricordo anche che se non esistessero oggi, questa è la mia considerazione personale, i social, i telefonini che consentono di riprendere le immagini in prima persona, non so neppure se quelle immagini emblematiche e sconcertanti che abbiamo visto in questi giorni di lavoratori seduti al porto di Trieste che vengono colpiti con gli idranti, con i lacrimogeni e con i manganelli, chissà se sarebbero circolate nei nostri giornali mainstream. Eh, infatti, ecco. Va bene, fatta questa mia considerazione personale sull'attualità, torniamo al tuo libro. Ecco, come la considerazione sull'intervento, sull'atteggiamento, torniamo all'atteggiamento dell'Italia e del fascismo in particolare verso le colonie. Diciamo, dalle mie informazioni, ma chiedo a te un riscontro, ho letto alcune cose sul tuo libro, più che una guerra, più che un colonialismo predatorio, è stato un colonialismo nel quale l'Italia ha investito molte risorse e potremmo dire, condividi Alberto, il dire che è più ciò che ha investito che ciò che ha ricavato in termini meramente economici e commerciali. Assolutamente sì, ecco. E anche lì è sempre una questione di come viene posta la cosa, con quale fine e con quale obiettivo la si racconta. Cioè dire che abbiamo buttato del denaro, dire che è stata un'impresa fallimentare, è in dubbio che c'è in atto una campagna denigratoria di tutto quello che è stato il progetto coloniale. Dire invece che furono più le risorse investite di quante in quegli anni tornarono indietro è un'altra riflessione, ma la riflessione va fatta nei termini della visione del futuro che avevano all'epoca. Nelle colonie vennero investiti fiumi di denaro, questo è vero, in infrastrutture, strade, ponti, dighe, canali, concessioni agricole, tecnologia che venne portata giù in Africa, perché l'idea, come ho detto all'inizio, era che le colonie dovessero progredire insieme allo Stato italiano. Dovevano diventare terra, territorio italiano, popolato anche da italiani che potessero vivere, procreare, lavorare e stabilirvisici. Dovevano vivere lì. Quindi l'investimento era a lungo termine. Qualunque tipo di investimento oggi è a lungo termine. Una nazione, ed è l'errore secondo me che viene fatto da qualunque governo italiano da decine di anni a questa parte e di non avere una visione del futuro. Non vi sono investimenti a lungo termine. Oltretutto non mi risulta che uno Stato sia un'azienda che debba avere dei profitti dai suoi investimenti, tra l'altro, perché lo Stato non è un'azienda privata. Lo Stato deve creare benessere per i propri cittadini e sul lungo termine anche. La costruzione di una ferrovia in Italia piuttosto che di un'autostrada, quanti anni ci va prima che lo Stato si ripaghi l'investimento? Decine di anni. La stessa cosa è quello che era stato fatto nelle colonie. Si investiva denaro con l'idea di rimanerci, di viverci, di non andare via il giorno dopo. Purtroppo per tutti, non solo per gli italiani, anche per i locali, le cose sono andate diversamente. Ci fu la seconda guerra mondiale, la perdita delle colonie, la fine del colonialismo, la decolonizzazione, tutto vero. Un esempio, nelle concessioni agricole di Genale molti concessionari seminarono il cocco. Se ci fosse dietro l'idea di depredare, innanzitutto non vai a fare il contadino, perché fare il contadino vuol dire faticare e lavorare e non è depredare. Ma soprattutto non semini il cocco, per il quale ci vanno 15 anni perché diventi produttivo e possa rendere qualche cosa. Ecco, in quale mente di un predatore c'è chi va a seminare, a coltivare il cocco, le piante di cocco. Ci vanno 15 anni prima che tu possa depredarle, prima che tu possa sfruttarle. Ecco, questo è importante da dire. Ma soprattutto c'è da dire un'altra cosa. L'Italia fu l'ultima nazione d'Europa che arrivò in Africa. Tutti i territori africani ricchi di materie prime, di minerali, di metalli, erano già state prese dalle altre potenze europee. L'Italia si ritrovò delle nazioni totalmente povere e desertiche, dove non vi era nulla da sfruttare. In Somalia non c'era niente da portare via, motivo per cui venne investito molto nelle concessioni agricole. Con le canalizzazioni vennero costruite dighe per creare argini all'acqua da poter distribuire tutto l'anno in una regione dove i fiumi sono stagionali e derivano dalle piogge, dai monsoni. La stessa cosa in Eritrea. Vaste zone vennero canalizzate e bonificate. La stessa cosa in Libia. La Libia purtroppo per l'epoca era povera, il cosiddetto scatolone di sabbia di Salvemini. Il petrolio c'era, l'avevamo anche scoperto, l'aveva anche trovato Ardito Desio. Peccato che era due chilometri sotto terra e le trivelle che avevamo non erano in grado di raggiungere quelle profondità. Balbo andò più volte negli Stati Uniti, Italo Balbo, per farsi dare le trivelle dagli americani. Non ce le vendettero apposta. Quindi c'era poco da depredare in regioni povere. Quindi anche chi dice che siamo andati là a rubare, c'era niente da rubare. Abbiamo pure fatto i contratti, pure, lo sottolineo pure, perché gli altri non lo fecero. Venimmo elogiati alla conferenza sul lavoro di Parigi nel 1935 per i contratti di lavoro che avevamo fatto ai coloni indigeni in Somalia. Ci sono i documenti, li pubblico nel libro. Non li abbiamo schiavizzati. Mi tocca ripeterlo, ma perché alle volte bisogna essere ridondanti come chi pubblica sempre gli stessi libri scrivendo che il colonialismo è stato solamente fascismo, che è stato solamente gas, che è stato solamente soprusi. Il colonialismo è durato 80 anni, se consideriamo anche l'AFIS. L'AFIS è l'amministrazione fiduciaria italiana della Somalia. Questa è un'altra cosa di cui molto poco spesso si parla. L'Italia perse le colonie nel 1941. Gli inglesi conquistarono la Somalia, l'Eritrea e l'Etiopia. In amministrazione britannica, la Somalia vi rimase fino al 50, quando le Nazioni Unite decisero di dare in amministrazione fiduciaria all'Italia la sua ex colonia, su richiesta dei somali stessi. Ecco, se abbiamo fatto così male, così tanto male, se li abbiamo trattati così tanto male, se li abbiamo schiavizzati così tanto, se gli abbiamo rubato tutto quello che avevano, perché i somali hanno chiesto alle neonate, Nazioni Unite, che lo Stato ex colonizzatore potesse amministrare e portare a quella che era una nuova democrazia lo Stato somalo? Quindi nelle nostre ex colonie non ci odiano, potremmo dire. Guarda, questo è anche un discorso molto… non riesco a dire soggettivo-oggettivo, nel senso, le persone con cui io parlo tutti hanno stima degli italiani, del nostro passato e della nostra presenza a casa loro. Le persone, i miei lettori, i miei lettori mi portano testimonianze, mi scrivono mail, messaggi, in cui ah sai sono stato a Massawa, sono stato a Dasmara, ero stato negli anni a Mogadiscio, perché adesso è impensabile per un bianco cristiano andare a Mogadiscio, o piuttosto che in Libia, ah tutti ci rimpiangono, ah tutti chiedono perché non torniamo. Poi invece senti le testimonianze di chi è avvezza a parlare solamente di gas, conquiste, morti, orrori, chi ha il fascino dell'orrore, no? Io non capisco, cioè io lo chiamo l'onanismo degli orrori. Ci sono persone che qualunque cosa tu scriva o metta, parli di piantagioni, di strade, di ponti, di contratti di lavoro, ti rispondono e i gas e i graziani, ma cioè vivi di orrore, di orrori, cioè è questo che io non riesco a capire. Loro invece riescono a trovare solamente gli ex somali, cioè gli ex coloni colonizzati italiani che raccontano che gli abbiamo stuprato la figlia, la moglie, la nonna, la zia, la capra, il cammello, tutto. Quindi ci odiano. Le mie testimonianze, le testimonianze che io raccolto, i dati che ho, dicono l'esatto contrario. Possiamo portare la testimonianza di Ailesi Lassie che quando gli inglesi lo rimisero sul suo trono ad Addis Abeba la prima cosa che fece è ringraziare gli italiani per la politica coloniale che avemmo a casa sua? Questo perché di solito non viene detto. Possiamo ricordare Siad Barre, presidente della Somalia, quando a fine anni 70 venne in visita a Roma e venne accolto da Pertini, l'allora presidente, il quale gli si fece incontro e gli chiese scusa per il colonialismo e Siad Barre gli rispose che non aveva nulla di cui scusarsi, che era lui che ringraziava gli italiani. Ecco, queste sono testimonianze importanti. Due capi di Stato che ringraziano gli italiani hanno un ricordo positivo della nostra presenza, al netto di quello che possono essere stati gli errori. Ma chi non commette errori? Cioè anche questo è il concetto. Ma siamo tutti perfetti? Sono tutti perfetti quelli che scrivono determinati libri ricchi di accredini, di pregiudizio, di aggettivi denigrativi verso tutto quello che sono stati gli italiani di quegli anni. L'essere umano non è perfetto, è perfettibile. Io non credo che ci siano persone che siano volontariamente andate, coi propri denari, la moglie, la figlia, in Somalia, con l'idea di schiavizzare, sfruttare un somalo, poterlo prendere a calci. Io non lo credo questo, non lo voglio credere. Io non voglio credere che ci sono esseri umani così. Ci sono, indubbiamente, perché ci sono brutte persone come belle persone. Però credo che la maggior parte siano migliori e migliori di quello che in certi libri ci vogliono far credere. Bene Alberto, io chiuderei questa nostra intervista, questa nostra chiacchierata su queste tue parole. Ti ringrazio. Ricordo ancora il tuo libro Bugie Coloniali di Eclettica Edizioni. Grazie a voi. Arrivederci su questo canale e un saluto a tutti gli utenti. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Buona serata. Grazie.